Ogni mattina mi alzo alle 5.05. Io la leggo come S.O.S. Una richiesta di soccorso da parte di qualcuno. Bomba! Ecco, quel qualcuno. Sono io. Ma perché la mamma va sempre per lavorare? Sentiamo più tardi, ok? Perché ci sono delle persone che la vogliono vedere. A te non ti vuole vedere nessuno, vero papà? Andiamo alla per i denti, forza, forza! Sono entusiasti. L'editor ha detto che è la cosa migliore che tu abbia mai scritto. Non so come fai ogni volta a inventarti queste storie così. Anche questo personaggio. Ma come ti è venuto in mente? Così borioso, egocentrico. Siamo sotto di 6.823 euro. Quadramento previdenziale? Non ce l'ho neanche le ferie pagate. Ti afferri? Una stretta di mano quando va bene. Matteo, i tuoi disini sono benissimi. Ho fatto delle foto alle tue tavole e l'ho portato all'editore. S.O.S. Panico da felicità. E la vita è un attimo che cambia da così a così. Sono normale? Sono bene. Ma tu ci credi? A me la mia vita piace così com'è. La felicità non c'entra niente con quello che vuoi. Perché la vita non è ciò che ti capita, ma quel che cerchi di fare con ciò che ti capita. È? 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 Grazie a tutti.